Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Questa sera è ospite dei nostri studi il sindaco di Chieti Diego Ferrara. Buonasera sindaco, grazie per aver accolto il nostro invito. La settimana scorsa è stata caratterizzata da una notizia importante per la vita della città, della sua amministrazione, perché il Ministero sostanzialmente ha dato il via libera al bilancio riequilibrato del Comune di Chieti, che ricordiamo vive una situazione di dissesto dei conti. Che cosa rappresenta questo segnale dal punto di vista amministrativo e anche dal punto di vista politico? Abbiamo chiesto proprio al sindaco di venerciolo a spiegare. L'approvazione da parte del Ministero dell'Interno di questo bilancio chiamato previsionale, stabilmente riequilibrato, e poi cercherò di spiegare il motivo di questa definizione. È un grande riconoscimento, un grande segnale politico che noi stiamo incassando. Quando parlo di noi, ovviamente non è un plurale maiestatis, ma riguarda tutto l'apparato amministrativo e politico della mia amministrazione e colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutta la parte amministrativa, soprattutto il dirigente del settore finanziario, il dottor Franco Rispoli, la segretaria generale, l'ufficio di presidenza, ma anche l'organo politico costituito da consiglieri e assessori, tutti che hanno dato questo risultato. Bene, io vedo questa approvazione, questo risultato, in una doppia ottica, in una doppia valenza. Innanzitutto un risarcimento psicologico nei confronti di quei molti detrattori che credevano che non saremmo riusciti ad ottenere questo risultato e forse anzi lo speravano e l'altro motivo è di concretezza per la cittadinanza, ovvero sia con questo bilancio pulito, stabilmente riequilibrato, significa sgravato dai debiti precedenti che questa, la mia amministrazione, ha dovuto fare i conti fino adesso, dal momento dell'insediamento, questo bilancio pulito adesso permetterà di dare concretezza a quei programmi che mi ero proposto come linee di mandato già dal momento delle elezioni. Voglio solo ricordare questo perché molti elettori, molti cittadini dimenticano o fanno fin da di dimenticare. Al momento del nostro insediamento nel 2020, e non sto a dire i problemi che abbiamo dovuto affrontare per tutto il 2021 con il Covid, che ha paralizzato praticamente la nostra attività amministrativa, quindi fondamentalmente abbiamo governato il 2022, il 2023 e adesso il 2024, abbiamo trovato un buco finanziario di ben 78 milioni di Euro, a cui si sono aggiunti, si erano aggiunti circa 20 milioni di contenziosi, quindi di cose non pagate dalla precedente amministrazione, più 20 milioni di ricorso al FAL, che è un fondo di liquidità ministeriale, a cui la precedente amministrazione aveva fatto richiesta e ottenuto proprio nel 2020, a pochissimi mesi dalla competizione elettorale. Ecco, quindi noi ci siamo trovati di fronte a questo oceano veramente di debiti, qualunque altra amministrazione avrebbe innalzato la bandiera bianca e avrebbe detto non è cosa, noi siamo riusciti con forza e con un po' forze anche di incoscienza, ma questa incoscienza ci derivava dalla forza che l'elettorato ci aveva dato al momento del voto, siamo riusciti a mantenere la barra dritta e abbiamo evitato che la barca affondasse. Di questo, voglio dire ai miei cittadini, sono profondamente orgoglioso, al netto di tutto quello che l'amministrazione non ha potuto fare in questi anni, proprio per le condizioni economiche disastrose e che sicuramente potrà fare negli anni a venire. Lei guarda già al futuro con questa parte finale della risposta, in questi giorni si è parlato molto anche di una sua ricandidatura, che peraltro proprio in questo studio e proprio in questa trasmissione lei annunciò come intenzioni meno di un anno fa, se non erro. Adesso è cambiato lo scenario sindaco, lei è comunque disponibile, è stato detto, ad un mandato obbligatorio, ma perché proprio avverte questa responsabilità. E quali sono le condizioni politiche per cui Diego Ferraria si ricandidi alla guida del centro-sinistra e della coalizione allargata a Chiedi? In questi ultimi mesi, in interviste rilasciate a giornali o stazioni televisive, ho aggiustato, come si dice, un po' il tiro rispetto alla dichiarazione fatta, come le dice, su questi schermi un anno fa di una mia ricandidatura. La mia ricandidatura la sottoporrò, quindi deve venire fondamentalmente, deve scaturire dalla messa a terra di tutti i progetti che noi abbiamo approntato vincendo ben 60 milioni di euro intercettati dal PNRR, ovvero sia, la dico in maniera più sintetica. Io in questi due anni, un anno e mezzo che mancano alla fine della mia legislatura, devo vedere realizzati o in fase ultimativa, il cosiddetto ultimo miglio, in fase ultimativa quei progetti che ci siamo posti di dare alla nostra città per migliorare la vita in generale, quella economica della nostra città. Parlo dei parcheggi, dei nuovi parcheggi che vorremmo fare, la scala mobile che deve essere ricostruita, il super cinema che deve essere riaperto, Palazzo Massangeli e l'ex scuola Nolli che devono essere ristrutturate, l'asilo principessa di Piemonte, il parcheggio a Piazzale Marconi a Chitiscalo e tante altre cose. L'ampliamento del Tribunale. L'ampliamento del Tribunale. Di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione. Tante altre cose. Bene, chiaro. Sindaco, lei è anche Presidente del Comitato di Sindaci della ASL Lanciano Vasto Chieti. Sono giorni in cui abbiamo visto anche in Commissione la Regione si valuta il debito molto preoccupante delle ASL e si cercano soluzioni. Dal vostro punto di vista, io le chiedo anche come organo collegiale, come bisogna intervenire anche nella ASL di Chieti? Allora, faccio questa premessa che gestire una ASL è una delle cose ovviamente più difficili da far tremare i polsi a chiunque, sia per la complessità della governance e sia perché le variabili indipendenti che incidono sulla gestione tecnica della salute pubblica sono molteplici e possono crescere da un momento all'altro. In queste ultime settimane abbiamo assistito anche ad un rimpallo di responsabilità del buco finanziario che è presente nelle varie alz con particolare frequenza nella ASL di Chieti e in quella dell'Aquila, tra Regione che secondo il manager non dà sufficienti strumenti economici, mentre da parte della Regione si vendila una cattiva gestione. A me questo interessa poco, come interessa poco ai cittadini. La cosa importante che io ho ribadito nei comitati ristretti dei sindaci e nelle riunioni fatte con l'assessore alla sanità, la dottoressa Verì, è che non si tocchino i LEA, cioè i livelli elementari di assistenza, ovvero se i tagli devono essere fatti, possono essere fatti in altre parti, nella strumentistica, nella farmaceutica, quello che vogliamo, ma non diminuiamo, non possiamo diminuire i livelli di assistenza. Nella farmaceutica però c'è un distinguo probabilmente da fare che si riferisce ai farmaci per persone che hanno patologie per esempio oncologiche gravi, su cui si è registrata una riduzione delle somministrazioni da parte della ASL. Lei come medico di famiglia, abbiamo ricevuto anche diverse segnalazioni in redazioni su dosi più basse, come pensa si debba intervenire? Il problema era già presente da tempo, io sono andato in pensione da un anno e mezzo e ricordo che, come medico di famiglia, ricordo che già ai miei tempi i medici, tutti, quelli di famiglia in particolare, ma anche i medici ospedalieri, erano sotto una lente di ingrandimento sulla prescrizione dei farmaci e ci venivano a volte, venivamo rimproverati, blanditi e a volte anche colpiti economicamente sui nostri stipendi per la cosiddetta inappropriatezza prescrittiva. Dobbiamo dire questo, che le regole attuali, quelle di diminuire il numero di prescrizioni ad un mese di terapia ai pazienti cronici è ovviamente assurdo, è una misura, la cosiddetta foglia di fico da mettere su una falla grande. Su farmaci importanti, quelli oncologici, gli immunologici e quant'altro resta la mia contrarietà assoluta proprio perché si rifà ai cosiddetti LEA di cui parlavo prima. Praticamente i malati gravi, cronici, i disabili devono essere preservati da tutti. Ultima notazione, anche perché abbiamo soltanto tre minuti, vorrei farla sullo sport, perché oggi è un lunedì felice per i tifosi del Chieti dopo la vittoria di ieri, ma più in generale dopo momenti anche di qualche difficoltà vissuti quest'estate, circa l'individuazione di un futuro, invece la società del Chieti ha trovato una bussola ben precisa, anche una fortissima nuova proprietà. Ecco, peraltro in queste ore è in corso anche il closing rispetto alle vicende pregresse, insomma si sta assestando un forte interesse da parte del Fondo e della Virgo, più in generale come gruppo, su questa città che credo vada anche oltre il calcio. Lei come vede questo momento da sportivo e anche da sindaco rispetto a una scommessa di rilancio sulla città che arriva? Assolutamente, io sono estremamente positivo, estremamente grato a quello che sta avvenendo e al signor D'Arcangelo, l'Altair D'Arcangelo che ho conosciuto in occasione delle feste patronali di Brecciarola di alcune settimane fa, è certamente un momento nuovo, esaltante, non solo per lo sport chietino, perché tra l'altro oltre al calcio, ovviamente quest'anno avremo anche importanti novità nel basket e in altri sport e lo sport rimane un fortissimo collante del sistema connettivo della società. Dallo sport ci sono riverberi positivi sia da un punto di vista dell'indotto economico ma anche di un sentiment della cittadinanza che trovando soddisfazione nelle performance delle proprie squadre si sentono anche più contenti e più felici. Questo intervento, come dicevo, della società del signor Altair D'Arcangelo è benvenuta nella nostra città sempre ovviamente nei corretti rapporti pubblico e privato e quindi qualunque cosa si debba e si possa fare di positivo per la nostra città, ovviamente come sindaco ne do il benvenuto. Benissimo, io la ringrazio sindaco Ferrara per aver accolto il nostro invito, periodicamente ci sentiremo, ci aggiorneremo perché insomma andiamo sempre più avvicinandosi alle scadenze anche elettorali e quindi sarà bene seguire non soltanto ovviamente con lei cosa la città chiede e soprattutto le risposte che arrivano da chi si appresterà a sfidarsi per governarla nei prossimi cinque anni. Grazie ancora sindaco e buonasera a lei e al nostro intervento. Grazie, buonasera.